Ciao a tutti amici di Autoprove.it, benvenuti a questo focus dedicato ai pro e ai contro di Mazda 2 dopo tre settimane di prova su strada. Eccomi allora dopo queste tre settimane di test in compagnia di Mazda 2 Model Year 2021 a raccontarvi le cose che mi sono piaciute e che non mi sono piaciute in circa 2000 km di prova su strada. Un test che ho portato avanti in città exorurbano autostrada per assaggiare fino in fondo le doti di questo interessantissimo 1500 4 cilindri Skyactiv-G da 90 CV. Voglio però partire dalle cose che mi sono piaciute prima di raccontarvi le cose che mi sono piaciute da questa prova su strada. Beh, tra le cose che mi sono piaciute l'auto in sé, il fatto che Mazda stia ancora puntando sul segmento delle city car. È vero, siamo tutti presi da SUV, crossover e quant'altro e ci dimentichiamo però che le city car restano delle validissime alleate per combattere lo stress, il traffico, i problemi di parcheggio che affliggono le nostre città. Quindi brava Mazda che continui a puntare su questo segmento e continui ad aggiornare costantemente Mazda 2 a livello motoristico e tecnologico. Sappiamo infatti che moltissime case auto stanno completamente abbandonando questo segmento a causa dei costi di sviluppo e dei volumi che non sono elevatissimi. Sappiamo peraltro che Mazda 2 rinascerà sulla piattaforma della Toyota Yaris in una prossima generazione, però quella attuale, quella di questa prova, mi ha sorpreso perché è veramente concreta, attenta al dettaglio sia fuori che dentro. Una vettura veramente all'altezza delle sfide del segmento city car, quindi il concetto della compatta cittadina pratica, sfruttabile anche sulle lunghe percorrenze è sicuramente la cosa che mi è piaciuta di più. Come mi sono piaciute le dotazioni a livello tecnologico, trovate infatti qui sul canale il focus dedicato proprio alle tecnologie, agli ADAS presenti a bordo di Mazda 2, guida autonoma di secondo livello. Quindi abbiamo cruise control adattivo, abbiamo lane assist con mantenimento del centro della corsia, abbiamo il blind spot con dei led in corrispondenza, gli specchietti esterni che ci avvisano della presenza di veicoli, un motoveicolo in avvicinamento laterale. Abbiamo un sensore utilissimo, traffico posteriore, vedete infatti che il 1.8 è contenuto, i montanti sono generosi, abbiamo la lettura della segnaletica stradale, insomma questo per dirvi che è un'auto spendibilissima anche sulle lunghe percorrenze. E poi a convincermi è stato anche questo 1.5 benzina 4 cilindri da 90 cavalli, mild hybrid, quindi un ibrido leggero che però sfrutta una batteria pensate da 0,012 kWh, praticamente 10 volte più piccola della batteria del sistema ibrido leggero, per dire di una Panda, di una 500 Hybrid. Questo perché i Mazda hanno voluto contenere il peso a tutto vantaggio della guidabilità, della sfruttabilità dell'auto. È vero, non è una velocista, lo 0-100 è coperto in 9,8 secondi, la velocità massima parla da sé, però è un'auto che effettivamente fa del comfort, della rilassatezza, un punto di forza complice a questo ottimo strumento qua. Il cambio manuale ha sei rapporti di casa Mazda, con la sesta che ci aiuta a tenere giù i giri motore e quindi contenere i consumi e si riescono a fare quindi tranquillamente 18-19 km con un litro, un dato veramente molto valido. Parlando invece delle cose che non mi sono piaciute di quest'auto, beh la prima è sicuramente la dinamica di funzionamento del sistema di infotainment. Ad autoferma, lavora in touch molto bene, però appena ci spostiamo in casa Mazda hanno deciso di impedirci il funzionamento touch e quindi ci costringono ad utilizzare questo rotore che si trova nel tunnel centrale. Insomma una soluzione funzionale, chiaramente all'attenzione alla guida, alla sicurezza, però insomma non una soluzione che io reputo ottimale perché il sistema lavora, gira molto bene. Seconda cosa che non mi è piaciuta, beh sicuramente il discorso visibilità posteriore, noterete il 1.8 contenuto, i montanti generosi, quindi il sistema di telecamera a 360 gradi che equipaggia la vettura ci aiuta veramente tanto ad avere un'idea chiara di quelli che sono gli ostacoli che circondano l'auto. Ultima cosa che non mi è piaciuta di quest'auto, il bagagliaio, pensate 280 litri di capienza, saliamo a 950 battendo gli schienali della seconda fila di sedili, però sono pochini. Il piano di carico peraltro presenta un'altezza da terra generosa, un'apertura non amplissima, quindi sicuramente sul fronte abitabilità per i bagagli si poteva fare qualcosa di più. Questo allora era il focus dedicato ai pro e ai contro di Mazda 2 dopo tre settimane di prova su strada e oltre 2000 km percorsi in compagnia di questa city car compatta. Adesso però come sempre voglio sentire la vostra, ditemi tutto quello che ne pensate qua sotto nei commenti perché leggo e rispondo volentieri a tutti. Prima di salutarci però l'invito è quello solito, andate a curiosare in tutti i vari social di autoprove.it, i vari Facebook, Twitter, Instagram, seguite il blog che è sempre aggiornato con le ultime novità e curiosità dal mondo dei motori, ma soprattutto iscrivetevi a questo canale YouTube perché ci troviamo sempre qui per il prossimo video. Ciao!